prepariamo insieme una golosa e sana merenda i biscotti da inzuppo al cacao con olio d'oliva senza burro più sani leggeri e golosissimi perfetti per la colazione da inzuppare nel latte ma così golosi che sono buoni da sgranocchiare durante tutta la giornata prepariamoli subito insieme pesiamo 10 grammi di ammoniaca per dolci sciogliamo 10 grammi di ammoniaca in 90 grammi di latte in una ciotola capiente mettiamo 500 grammi di farina doppio zero larghiamo la farina e aggiungiamo 120 grammi di zucchero aggiungiamo ancora due uova medie a temperatura ambiente iniziamo a mescolare uova e zucchero con una forchetta aggiungiamo 70 grammi di olio d'oliva sceglietelo delicato mescoliamo ancora aggiungiamo poi i 90 grammi di latte con i 10 grammi di ammoniaca e mescoliamo ancora questo punto per aromatizzare aggiungo un cucchiaino di estratto di vaniglia e mescolo ancora fino ad ottenere una frolla omogenea quando l'impasto si fa più duro si prosegue a mano ovviamente per chi vuole può preparare l'impasto anche nella planetaria mi trasferisco sul piano di lavoro per lavorare meglio il mio panetto ed ecco pronta la ricetta base per i miei biscotti adesso vado ad aggiungere gli ingredienti che voglio per insaporire i miei biscotti si possono aggiungere pezzi di cioccolato oppure del cacao come ho fatto in questo caso per dei biscotti al cacao da inzuppo meravigliosi ho aggiunto all'impasto circa 50 grammi di cacao amaro ma ovviamente potete regolarvi sulla quantità a vostro gusto e aggiungo anche un po' di succo di arancia ancora un po' di scorza d'arancia prima di andare ad impastare ancora per ottenere un impasto omogeneo al cacao avvenuto l'impasto lo andiamo a dividere in 20 porzioni per ottenere circa 20 biscotti da 50 grammi l'uno formiamo delle palline e poi le allunghiamo otteniamo così dei biscottoni andiamo a passarli nello zucchero semolato e distribuiamo in una leccarda da forno rivestita con carta forno o con un tappetino in silicone mettiamo distanziati e cuociamo in forno caldo statico a 180 gradi per 25 minuti provateli perché sono davvero fantastici e li potete arricchire a vostro gusto anche con delle nocciole